E' meglio un esipodio che mi è capitato. No, non ho capito che... Un esipodio che mi è capitato stamattina. Non ti capisco, parla chiaro. Un esipodio che mi è capitato. Esipodio. Sei sordo. Cosa sarebbe questo esipodio? Esipodio. Episodio vorrei dire. Episodio. Adesso si dice così. Come adesso? Ma quando c'era l'invitaliano ha sempre detto episodio. Episodio. S non concessa. Ammessa non concessa. P, S, non S, P. Allora in mezzo a questa piazza... Sì. C'è una fontana, no? Beh, che c'è da ridere? Quella fontana non ho fatto mai ridere nessuno. E' dare la cosa come è capitata a me. Ma... Eh, racconta. Questa fontana ci sono tre donne sopra che prendono i frischi. No, no. Quelle donne, come le chiami te, sono quattro. Quattro? Eh, già. Beh, se vedi che uno stava poco bene, non è sceso. Ha fatto scelta. Allora io mi sono messo, ti rimetto, sono sotto a un arcadio di voi a guardare. Tutto a un tratto mi è venuto incontro un pezzo di giovanotte che era così. Ah, sì. Con delle spalle così. Ah, grosso. Hai tante. Eh? Hai tante. Non lo so se ne hai aiutante. Era un pezzo... Sono venuto incontro. Ah, hai tante. Ho detto hai tante. È un pezzo di giovanotone grosso. Hai venuto in grosso. Mi diceva bene. Ma ho guardato fisso negli occhi, eh? Sì. Con una ghiglia sulla labbra, come per dire. Che è questa ghiglia? La ghiglia? Un ghigno, un ghigno. Sarà stato un ghigno. Era un ghigno? Eh. A me mi è persa una ghiglia. Vabbè, come ne pare? Allora, t'hai guardato? T'hai guardato, fitto, fitto, mi ha detto Pasquale! A me. A te. Pasquale. Ma che c'hai da lì? C'era un pezzo che ti cercavo. A te? A me. Ti cercavo? Figlio di un cane. Avete un figlio di un cane? Sì, finalmente ti ho trovato. Alza la mano. Pum! Mi ha mollato lo schiaffo. T'ha dato uno schiaffo? Ma forte! Un momento, questo è il figlio di un cane. Ha dato uno schiaffo. E tu? Io pensavo, dono e me. Chissà sto stupido dove vuole arrivare, capito? Pensavo. E poi? Mi ha preso perfetto. Ti ha preso? E mi spatteva visita al muro così. Io lo lasciavo fare. Che ti lasciavi fare? Ma Pasquale! Te posti l'ammazzata! Ah, ti ha detto pure... T'ha dato due schiaffi. Due schiaffi! Due schiaffi! E tu? Sta cosa mi scompisce. Ma come te la portavo a piacere? Ma come ti... Io pensavo, frerebbe chi sa sto stupido dove vuole arrivare. Tu pensavi... E poi? Fai scuola! Sempre la detto. Togliti il cappello! E tu? Togliti il cappello! Lo gliel'ho fatto dire due volte. Ah, no? Ci fai scuola, maledetto! Ti debbi sfondare il cranio. Pum! Un cazzotto qui? Che c'ho ancora la figozza. Ma ti ha dato pure un pugno in testa! Ma tu, scusa, che faccio? Io pensavo, chissà sto stupido dove arrivare. Ma che ridi? Ma che ridi? Mi fai rabbia! Ride, ride! Ma pensavo, pensavo... Ma scusa, ma perché non hai reagito? E come frega me questo Pasquale, io! Grazie a tutti!